Tre giorni per conoscere ingegneria e intanto c'è stato un rilevante incremento degli iscritti alle sessioni di test d'ingresso di ingegneria. Sono quasi 500 con un incremento di oltre il 40% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. L'Etneo si prepara dunque ad accogliere numerosi studenti delle scuole secondarie che hanno aderito all'iniziativa Il mio futuro da ingegnere, Chiocciola Univacu. Tre giorni per saperne di più, programmate per i suoi poli di Monteluco di Roio e di Coppito dal 5 al 7 settembre prossimi. Completamente supportati dall'Etneo per le spese di vitti alloggio, gli studenti partecipanti potranno vivere tre giorni da universitari presso le sedi dei corsi di ingegneria a contatto con docenti, dottorandi e giovani ricercatori. Avranno modo di seguire presentazioni dettagliate dei vari corsi di laurea e lezioni ad hoc su temi emergenti dell'ingegneria. Potranno anche visitare i laboratori didattici e i laboratori di ricerca, alcuni dei quali collegati ai cantieri della ricostruzione. L'evento sarà anche l'occasione per presentare i tanti progetti innovativi di ricerca e trasferimento tecnologico che vedono coinvolte le aree ingegneristiche dell'Ateneo Aquilano e che spesso rappresentano un laboratorio di formazione unico per gli studenti dell'Ateneo e molto apprezzato da aziende e istituzioni scientifiche. Potendo contare sul concomitante inizio dei precorsi che partiranno il 4 settembre presso il polo di Coppito e dei test di ingresso del Cisia per gli immatricolandi che si svolgeranno a partire dal 3 settembre presso entrambi i poli di Monteluco di Roio e Coppito, gli studenti partecipanti alla tre giorni avranno anche modo di acquisire informazioni di carattere amministrativo e organizzativo.